I comuni dell'Isola lanciano l'allarme sulle difficoltà di gestione dei rifiuti e gli extra costi chiedendo urgenti aiuti economici alla Regione. Il Presidente ha quantificato in 100 milioni il budget disponibile per la terza manovra che andrà in aula fra la seconda metà di luglio e i primi di agosto. Schifani però ha anche ammesso che una parte di questi fondi verrà spesa in base agli emendamenti dei deputati. Da qui gli appelli alla politica, piovuti nelle ultime ore, in primo luogo dei sindaci. La manovra BIS dà loro i primi 50 milioni per compensare l'aumento del costo di smaltimento dei rifiuti registrato negli ultimi due anni a causa dell'invio dell'indifferenziata in Danimarca. In particolare, l'Anci Sicilia stima che servano almeno altri 50 milioni di euro per coprire l'aumento delle spese di smaltimento dell'indifferenziata dopo i primi 50 milioni già stanziati, con l'ultima manovra. L'indifferenziata ormai sattura le discariche locali ed è costretta a viaggiare verso impianti all'estero con un esborso quasi raddoppiato per i comuni nel biennio 2021-2022. Ma il presidente Amenta puntualizza che la responsabilità non è da addossare soltanto agli enti locali. Mentre Balerma e Catania arrancano, ben 274 comuni in Sicilia superano il 75% di differenziata facendo il proprio dovere, dice. Ciò nonostante mancano impianti e strutture per la valorizzazione dei materiali differenziati con un gap enorme rispetto ad altre regioni virtuose. Come ricorda Menta, basti pensare che in Toscana, con una popolazione simile a quella siciliana, il riutilizzo dei rifiuti frutta 200 milioni di euro l'anno, 10 volte tanto i miseri 20 milioni dell'isola. Tutto ciò nonostante la Tadi, pagata dai cittadini siciliani, sia la più alta d'Italia. Di fatto, i comuni sostengono alti costi di raccolta per poi non riuscire minimamente a trasformare i rifiuti differenziati in una risorsa economicamente vantaggiosa. Secondo il presidente dell'Anci, dunque, servono con urgenza impianti di trattamento di prossimità sul territorio, altrimenti, oltre al danno ambientale, si continuerà a gettare letteralmente milioni di euro dei contribuenti tra fughe di indifferenziata verso il nord Italia e mancata valorizzazione del comparto.